Molto seguita in diretta televisiva, anche la veglia di Natale dal Santuario del Santissimo Salvatore di Andrea, celebrata dal Rettore Padre Francesco Mazzotta, che ha ricordato l'effetto dirompente della nascita di Gesù, una luce che ha portato gioia nel mondo. Non so se vi ricordate, in questi ultimi giorni, lì dentro avevamo messo la parola di Dio, c'era il lezionario, stasera abbiamo cacciato la parola e abbiamo messo Gesù, quella parola che si è fatta carne. L'espressione la troviamo appunto nel Vangelo di Giovanni, dove dice Giovanni il verbo, in realtà lui qui si traduce al maschile, lo commentavo l'altro giorno, ma in realtà dovremmo dire la parola si è fatta carne, la parola si fa carne, la parola si fa carne, quindi diede alla luce che cosa? La parola. Maria dà la luce e la parola. La parola, ma la parola primogenita, perché qui dice diede alla luce il figlio primogenito. Sapete qual è la prima parola che Dio dice nella Bibbia? La prima parola. Dovinate un po' qual è. Se andate a prendere la prima pagina, a capitolo 1 del libro della Genesi, al versetto 3, c'è la prima parola. La prima parola di Dio è sia la luce, sia la luce. Questa è la prima parola. Quindi potremmo dire che Maria dà la luce e la luce. Dà la luce e la luce. E questa luce ha un effetto enorme sulla realtà umana. Ce lo racconta Isaia nella prima lettura. Dice il popolo che camminava nelle tenebre, era al buio, era nell'oscurità, era nella confusione, vide una grande luce. Questa luce, che effetto c'ha? Dice ha l'effetto di portare la gioia. Sentite, ha moltiplicato la gioia, ha aumentato la letizia. La luce ha l'effetto di portare la gioia.